Ma io credo che quest'oggi di novità non ce ne saranno, siamo in attesa delle piccole correzioni del governo e dai contatti politici che sono in corso per avere via libera. Guardi, qui mi sembra un po' di vedere Romeo e Giulietta quando si parla di questo incontro, sì forse, ma però, non lo so, sono problemi loro. Questa era una condizione iniziale, se la riforma è una buona riforma, noi ritiriamo tutti i nostri emendamenti. Però, prima di vedere il tappeto e poi dare il cammello.